Ci siamo, questo è un po' un sogno che si avvera, abbiamo appena acquistato un'ottica focale fissa con una super apertura come può essere un 0.9 oppure un 1.2 o anche un 1.4, insomma quelle ottiche che ci permettono di sfocare tantissimo lo sfondo e quindi di avere il nostro soggetto in primissimo piano con quelle meravigliose palle colorate sullo sfondo. Molto bene, siamo tutti felicissimi ma c'è un problema, queste lenti grazie a un'apertura così ampia ci permettono di scattare fotografie anche quando c'è pochissima luce, ma che cosa succede se le vogliamo utilizzare in questo modo quindi con l'apertura massima anche quando di luce ce n'è troppa? Nel video di oggi vado a raccontarvi quello che è un espediente molto semplice e tutto sommato poco costoso per andare a utilizzare la nostra ottica focale fissa anche in pieno giorno o anche con le luci flash senza però rinunciare alla massima apertura, quindi quella che ci consente di sfocare completamente lo sfondo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia, ho diverse lenti zoom e ho diverse lenti a focale fissa. Ora, una delle differenze principali tra queste due tipologie di ottiche al di là del semplice zoom è il fatto che le lenti prime spesso e volentieri hanno un'apertura, cioè un diaframma banalmente, così ampio da permetterci di tenere a fuoco il soggetto e di andare a sfocare tantissimo lo sfondo. È il caso della ripresa che state guardando in questo momento perché se ci fate caso io sono bene a fuoco, lo sfondo non è bene a fuoco, nonostante non sia distante. Se fosse lontano 20 metri sarebbe normalissimo avere lo sfondo fuori fuoco, ma è abbastanza vicino, cioè non di meno voi mi dite che io sono bene a fuoco e lo sfondo no. Questo è possibile perché l'ottica che sto utilizzando ha un'apertura di 1.8, quindi ricordiamo più piccolo è il numero più grande è l'apertura. Un'apertura grande ci consente di sfocare lo sfondo, ma fa entrare tantissima luce, quindi in un contesto come questo di luce controllata io faccio comunque fatica perché c'è troppa luce qui e quindi ho dovuto schermare il mio obiettivo con un filtro ND. Ora vi faccio vedere che cos'è un filtro ND. Abbiamo qui questa bellissima confezione metallica della URT, un brand che a me sta piacendo parecchio perché fa dei bei prodottini. Questo come potete vedere è un filtro ND variabile, il che significa che ha una ruota, quindi vedete le due parti girano e otteniamo un numero diverso di stop di luce che vengono tagliati a seconda di quanto lo giriamo. Qui in particolare andiamo da ND64 a ND1000, quindi sono delle densità diverse che noi possiamo andare a selezionare per tagliare più o meno luce. Vi confesso che non mi ricordo questo filtro quanto taglia, però come potete vedere taglia parecchio perché così è al minimo e comunque vedete che io sono nero qui dietro, non mi vedete già più, quindi questo è un filtro che taglia veramente tanta luce. Ora ve ne parlo perché mi è capitato di recente e non solo di trovarmi in condizione di doverlo utilizzare laddove non me l'aspettavo. Normalmente io uso un filtro come questo per fare delle esposizioni lunghe, quindi se voglio per esempio creare l'effetto seta sull'acqua, metto questo filtro e così posso usare una posa di 30 secondi anche in pieno giorno, ottenendo un effetto molto gradevole. Ma mi è capitato di utilizzare questo filtro su delle ottiche prime, in particolare sul 50 mm RF, quindi il serie L di Canon per mirrorless, mi è capitato di montare questo filtro per realizzare delle fotografie in studio con luce flash, in particolare stavo utilizzando delle luci, non mi ricordo più se erano Godox o Profoto perché non ero nel mio studio. Poco importa, stavo utilizzando delle luci flash. Ora, voi dovete sapere che le luci flash hanno una potenza abbastanza elevata, una potenza di emissione del lampo abbastanza elevata perché sono pensate per darci tanta luce, ma spesso e volentieri non hanno una potenza minima abbastanza bassa da permetterci di scattare a tutta apertura. Quindi io potrei voler illuminare la mia scena ma poco perché ho già un'ottica molto luminosa. In quel caso che cosa faccio? Posso lavorare sui tempi ma spesso non è sufficiente, posso lavorare sugli ISO ma anche questo a volte non è sufficiente. Ecco che posso andare a montare un filtro come questo per tagliare la luce in entrata in maniera tale da usare esattamente i parametri che voglio e quindi ottenere la mia foto con sfondo sfocato, in particolare il mio ritratto con sfondo sfocato, anche se sto utilizzando delle luci flash e non solo, a quel punto non devo nemmeno abbassare le luci flash al minimo, le utilizzo normalmente perché tanto ho messo un filtro che taglia gran parte della luce. Ora molti di questi filtri hanno, lo rimetto via così non prende polvere, molti di questi filtri hanno il difetto che introducono delle variabili cromatiche perché comunque i filtri non sono perfetti e stiamo comunque andando a mettere qualcosa davanti alla nostra lente, quindi abbiamo pagato la nostra lente migliaia di migliaia di euro e poi andiamo a tagli davanti comunque un vetrino che avremmo pagato se va tutto bene 80 euro, non prendete filtri sotto i 20 euro perché probabilmente saranno devastanti dal punto di vista sia della resa sia magari anche della vite che si spana subito, io non andrei a prendere filtri sotto i 20 euro, ve lo dico col cuore, però ovviamente più costosi li prendiamo, se andiamo a prendere dei filtri belli funzioneranno meglio, introdurranno meno variabili indesiderate e andranno a tagliare la luce in maniera corretta senza introdurre colori che noi non vogliamo. Ovviamente ci sono delle variabili intermedie che introducono un pochino di colore ma non troppo e comunque sistemabile in post produzione e hanno l'effetto molto gradito di non stracciare completamente il nostro conto in banca, quindi bisogna anche sempre fare un pochettino un conto globale e dire va bene ma a me quanto serve un filtro da 200 euro, forse me ne basta uno da 60 per quello che devo fare. È proprio il caso di questi filtri della URT che costano intorno ai 60-70 massimo 80 euro per il diametro da 77 mm che utilizzo io, io ne ho uno, me lo porto dietro quasi sempre e quasi sempre nella borsa e un paio di volte mi ha veramente salvato perché il cliente voleva delle fotografie di un certo tipo ma le voleva illuminate perché comunque voleva un ritratto un po' caratteristico come quello che vedete adesso, qui vedete che la luce è abbastanza studiata, io ho il fonte di illuminazione principale, una lucetta kick da dietro che manda anche un po' di blu e una lucetta arancio che fa da contraltare di qua. Ovviamente se vuoi una situazione di questo tipo ma non hai le luci fisse, hai le luci flash, te la devi giocare come meglio riesci. Il filtro ND in questo caso è un salvavita perché ci permette di tagliare la luce in entrata e quindi possiamo andare a utilizzare la nostra lente con l'apertura massima che ricordiamo è quella che ci consente di staccare dallo sfondo. Nel momento in cui il cliente dice che vuole un ritratto con quella luce lì ma vuole lo sfondo sfocato in uno spazio ristretto oltretutto questa potrebbe essere l'unica possibilità che abbiamo perché altrimenti quello che succede è che dobbiamo andare a sfocare lo sfondo artificialmente con photoshop intelligenze artificiali varie. Ma qual è il problema? Mettiamo che abbiamo fatto una foto sola, ok sfocare lo sfondo di una foto sola si fa, non è un grosso problema, ma se ne abbiamo fatte 200 poi dobbiamo andare a sfocare lo sfondo su 200 foto, capite bene che questo è un problema e quindi è molto meglio investire questi 70 euro per avere le foto già giuste piuttosto che dover poi passare 70 ore a fargli quel lavoro lì. A questo punto staremo parlando di una spesa più che giustificata. Tenete anche conto che nel momento in cui facciamo un lavoro secondo me non è per niente fuori dal mondo pensare di investire quello che ci è stato pagato per andare ad acquistare qualcosa che ci rende migliore, più agevole, più rapido e il lavoro successivo. Questa è una cosa che io ho sempre fatto nel momento in cui trovo una difficoltà. Ecco va bene in questo lavoro mi sono trovato male, sono riuscito a farlo, mi ho fatto più fatica perché mi mancava qualcosa. Benissimo, con i soldi che ho guadagnato me la compro quella cosa, così il prossimo lavoro che mi capita ne faccio due nello stesso giorno perché sono più veloce, oppure semplicemente ne faccio uno ma ci metto la metà del tempo a terminarlo e quindi ho più tempo libero. Sono soldi spesi bene in questo caso e nel caso di un filtro che non è un corpo macchina, non è un obiettivo, qui non stiamo parlando di 1000 euro, stiamo parlando di una cosa assolutamente abbordabile. Per chi ha speso 1000 euro per comprarsi fotocamere, obiettivi eccetera eccetera, 70 euro non sono tanti, quindi è una spesa assolutamente contenuta che però ci dà un gran bel risultato perché ci permette di ottenere gli scatti giusti già in macchina, di sfruttare a pieno la lente costosa con la grande apertura che abbiamo comprato perché altrimenti se compriamo un'ottica prime con un'apertura da f1.2 e poi la usiamo sempre a f8, attenzione quello che ho fatto io per gran parte della mia vita, io ho quasi sempre scattato in studio a f8, è solo di recente, è solo quest'anno, anzi l'anno scorso ormai, che mi è capitato di dover fare questa cosa e credo a questo punto che ricapiterà perché l'esperienza mi è piaciuta, la possibilità di utilizzare lo sfocato di un'ottica prime senza rinunciare alle luci flash è una cosa che non mi è dispiaciuta per niente, quindi è un esperimento che vi invito a fare e vi invito anche a farmi sapere i risultati che ne tirate fuori, anzi vi dirò di più, facciamo un gioco, se vi capita di fare questa cosa taggatemi su instagram postando la fotografia più bella che avete fatto, quelle che mi piacciono di più le riposterò a mia volta nelle storie, così ci spostiamo anche un po' su altre piattaforme e facciamo anche un po' questo esperimento, vediamo come va. A questo punto amici io vi ricordo se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo foto e video e su tutte le trappole e marchi ingegni che capitano in mezzo al mio studio, iscrivetevi subito al canale così da non perdervi i prossimi episodi, lasciate anche un like a questo video perché l'algoritmo è inclemente e quindi se fate capire all'algoritmo che questi contenuti vi piacciono date una mano a me, date una mano anche a voi stessi perché significa che continuerò a portarvi questi contenuti in maniera del tutto gratuita, cosa che non penso di smettere di fare, non sono tanto propenso a fare contenuti a pagamento, a meno che non siano ragionati, strutturati e magari anche in seguito a delle vostre richieste, ciò non di meno, i bottoni sono tutti qui sotto. A questo punto io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. A questo punto io vi ringrazio come sempre al prossimo video.